che siamo scesi in quei luoghi di Napoli che spesso i napoletani non conoscono. Sì, possiamo! L'ho mai! Sì, possiamo! L'ho mai! Ci sono un canzone che non abbiamo in questo momento, che mi piacerebbe di avere in questo momento. I film erano canzoni di bilanciamento, cioè non si potevano avere tutte canzoni, diciamo, di amore. Io sono rimasto fuori, proprio non approfitto perché avevo dimenticato Lorena Tamaggio, o è arrivato un attimo dopo. E lì, tra le interpreti, steve a scena... L'ho scritto un lettera, di Francis Ford Coppola. Coppola mi scrive perché vuole vedere Avadiri Passione, e ha detto che Marlon Brando' preferito era Passione. Che era il suo preferito. La canzone preferita... ...and you watch it, mi guardo. Il film ti dice... Il film ti dice... Il film ti dice... questo è il film. Il film per... per... per tutti e per tutti. Wait, wait, wait! No, no, no! Si calma! Ti calma! Sπό slice... No, era mia idea... I try, i tui, gli provoi. Eti magari non riguarda lei... Ma non penserà la postaewa della parte del personaggio, ma magarilei mi potrebbero altamente, ma Kemperi difference di oggi... and you have to this is a the amount of talent that you have in this city is really films and you know I would just be touching the scratching the surface so it's really a very thank you thank you it is ma ma è stata una cosa un po' lì quindi è molto strano è come generale un film nel salotto di casa è una cosa un po' strana e ogni volta non mi stancavo mai di verlo ogni volta ero felice che arrivassero tutti i momenti del film non solo i momenti in cui ce l'ho io e quindi ero sono molto insomma mi sono convinta di essere che ce ne fosse un altro ecco perché io penso che le cose che non dice nella vita sono così lei dice oggi in generale per il film ok did you expect such a huge success for the film? no perché I think the film is a it's a little miracle un po' miracolo the film because we did not have a lot of money but I think we had tremendous a tremendous amount of talent so you know we didn't know what it would be really but the movie far exceeded our expectations in realtà non se lo aspettava perché il budget era veramente molto piccolo però ci hanno messo tutto il talento possibile quindi in realtà secondo lui ha funzionato molto quello e il film ha superato di gran lunga quelli che erano le loro aspettative c'è una possibilità ma non subito c'è prima una diciamo attenzione a distribuire il film in tutto il mondo quindi ancora far conoscere questo e richiederà tempo e poi probabilmente si potrà cominciare a pensare e potrebbero addirittura organizzare un tour legato però alla musica quindi ai cantanti che vanno e suonano live dove c'è anche lui a partire da maggio grazie